Buonasera Presidente Conte, cominciamo da quest'ultima immagine. Si aspettava una sterzata a sinistra così forte a parte di Ellis Line? Diciamo che le sue idee le anticipate, quindi abbiamo un nuovo segretario del PD, c'è la possibilità di coltivare un dialogo anche in prospettiva sempre più intenso, adesso però vedremo quali sono le posizioni politiche del partito, quelle che poi interessano, perché al di là delle posizioni personali a noi interessano le posizioni del Partito Democratico. Pensate di collocarvi a sinistra da sinistra o a destra da sinistra guardando verso il centro? Guardi, noi ci collochiamo di fianco alle imprese che vogliono investire, che investono per creare un'occupazione nel rispetto dell'ambiente, ci collochiamo di fianco ai lavoratori che sono sfruttati, prendono buste e paga la fame, a fianco dei giovani che dicono basta ai contratti a tempo determinato, vogliono contratti a tempo indeterminato per mettere su famiglia e ci collochiamo di fianco a tutti i cittadini che non vogliono attendere un anno, anche due anni per un esame diagnostico. Siamo contro, questo è chiaro, ci collochiamo contro tutte le ingiustizie, in particolare contro i favori ai vansori e corrotte ai soliti noti e potenti. Che cosa non le piace del segno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza? Qui c'è stato un colpo di teatro, grande sorpresa, io credo che il governo Meloni, la Meloni debba chiedere scusa a me e al Movimento 5 Stelle, perché ha fatto tutta la campagna elettorale demonizzando questa misura, dicendo assolutamente che era una mostruosità, adesso invece scopriamo che questa misura è necessaria, lo è per le persone, per famiglie con minori, con persone anziane, con disabili e scopriamo anche, e qui deve chiedere scusa, anche i suoi stessi elettori perché li ha presi in giro, ha detto che c'erano gli occupabili, i divanisti, i poltronisti, adesso scopriamo che anche loro conservano un sussidio, un sostegno, ovviamente hanno fatto cassa sulle loro spalle, attenzione, fra un anno, quando quel sussidio terminerà, quei 350 euro, glielo preannuncio, saranno costretti a reintervenire perché scopriranno che sono persone che hanno una qualificazione o un'istituzione bassa, difficilmente collocabili sul lavoro, l'Europa ha adottato una raccomandazione e ha detto che i suoi come il reddito di cittadinanza vanno rinforzati. Però qualche accorduccio con la Meloni lo fa, per esempio con i voti della destra, Alfonso Buonafede è diventato anche il ministro della giustizia. Lei è un esperto, lei è un esperto, sa che cosa significa parlare di un organo di garanzia? Certo. Da che mondo in mondo è sempre successo che le forze di opposizione possono eleggere i loro rappresentanti anche con i voti, maggioranza assoluta delle forze di maggioranza. Ha fatto benissimo solo che il PD non l'ha presa per niente in vena. Il PD l'ha fatto prima il CSM, un attimo prima ha eletto anche loro con i voti a Meloni. Nessuno ha scritto che il PD ha fatto accordi con la Meloni. Noi abbiamo indicato il nostro rappresentante, abbiamo chiesto più spazio per le posizioni perché non sono posizioni di potere, sono organi di garanzia nel rispetto delle funzioni democratiche di vigilanza e controllo. Le posizioni ci devono essere. Per me il PD ha sbagliato. Senta, lei il 10 maggio sarà interrogato dal Tributale Ministro di Brescia con quella incredibile accusa di omicidio per non so quali omissioni durante la gestione del Covid. Come si difenderà? Mi difenderò dicendo assolutamente tutto quello che so, parlando scienza e coscienza. Ritengo di poter guardare dritto negli occhi giudici e di riferire del mio operato. E di fronte a tutta la comunità nazionale sono sempre pronto a rispondere in qualsiasi momento, in piena trasparenza. Senta, l'Italia è tra gli 11 paesi individuati dall'Unione Europea per produrre armi e munizioni, in particolare dall'Ucraina. Lei ha già anticipato il suo parere contrario? Assolutamente parere contrario. Perché noi avevamo già previsto tutto questo. Noi siamo saliti su un vagone, su un treno, condotto da altri. Il binario è unico. Escalation militare. Fra un po' adesso purtroppo rischiamo un incidente nucleare e non vogliamo essere noi nella condizione di dire, ve l'avevamo detto, e nessuno potrà svegliarsi in quella prospettiva dicendo ma è una sorpresa, non ce lo saremmo aspettato. Ma come può difendersi Zelensky? Ascolti, noi infatti nella prima fase, con grande tormento di coscienza, siamo stati favorevoli alle forniture, ma avevamo chiesto a Draghi di imporre da subito una svolta in direzione negoziale. Questa svolta non c'è. Non c'è stata e c'è qualcuno che sostiene che chi vuole la pace è filo russo, il nostro ministro Crosetto. È inaccettabile. Da ultimo, inaccettabile. Breton, il commissario europeo, ha detto guardate che le munizioni potete anche prendere PNRR. Non lo permetteremo mai. Sanità, istruzioni, asili nido. Questo non ha senso. Grazie Presidente Conte. Buon lavoro. Grazie, buonasera. E a voi buona vedezza.